Non lo studiamo, sì, parla molto, giovani testi di cazzo, il cui unico mio sarà di diventare delle grandi testi di cazzo e poi delle vecchie testi di cazzo. Vi spiego questa cosa. Io non c'erano meno 300 amici su questo. Vi sembrano pochi? Pochi, ma buono, credo voi. E invece noi, Pochi e Strozi. Di questi 300 milioni ne conosceranno forse 50 e sono stata l'altra. Gli altri, non ho idea di che il campo così e di come sia la famiglia di portarvi la patrica di Strozi Saga. Di questi 50 e 14, la maggior parte è il primo Stasio di Cazzo. Gli altri, comunque, quelli con cui vi interessa parlare, sono forse sei o sei, con i quali non guardo solamente di strunciare, perché nella loro vita non vi conto da beata sempre. Eliminati tutti quanti. Resta una sola persona in questo potuto mondo. E vi giuro, su qualsiasi cosa, che quest'ultima persona rimasta, è quella di cui mi frega bene in assoluto. Detto questo, veramente pensate che non avete qualcosa del vostro danno di maturità? Vai, Gianluca. Ma vuoi fare la ricostituazione? E allora mi dò sì. Allora, spero veramente che vi consiglio di passare un giallo di maturità con il massimo dei voli. Sì, è una volta uscita alla scuola, con il vostro bello e cammino del piaccio umano, tutti i carni e i sorridenti, vi possa prendere sotto il conto di un ornesto con il suo trattore. E che vi corso un edificio così come ottonio per i prossimi sei anni. Sei anni, sì. Poi basta. Perché allora la mia considerazione sarà esaurita. E di voi, nuovamente, non mi fregherà più un cazzo. Io sono il risultato sullo specchio, non mi riconosco più. Nemmeno un coltio a parte del cazzo stampato sull'occhio. Non era quello che vorrei, con l'andorciabilità. Ragni morti a che santissero pagliati. Brucio, baglio il tempo per le mamme. Brucio, brucio il grande paglione che è venuta a me accanto senza conoscere. Brucio, brucio il cucio il cortico. Procresto a riempire, che si astina, non chiamato di mamma. Brucio di lacrima, cazzo la polimotalleria, muoio di un anno sotto l'opera. Beccato di esprudere. Chiamato, brucio di esprudere. Maglieca d'occhio e gabbata, 385 euro. E il manico è giusto. Furla il giorno speciale con i rossi. Cazzo a riempire, si riforma, rucidato, riancati nel rete. Cantare. Questo volevo fare, con la voce non c'è, sbiancata dalla bambucina delle lavatrici. Non è più inviato, non è esistito niente. Il cecchino celeste spara. Io ho fatto sogno in all'estimento, mai provato. Spara, spara il cecchino celeste. Non dorme mai, non chiede niente. Chi è? Che cosa voleva? Non c'è, 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 non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Ehi. Ehi. Ehi.